Venerdì 5 novembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Incominciamo subito con la lettura dei titoli presenti nelle due prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi di venerdì 5 novembre 2021. Focolaio in casa di riposo, nove contagiati alla Mono. Notizia quindi che ci riporta in emergenza Covid-19, subito sospese le visite dall'esterno, scattano le bolle per gli ospiti, siamo in piena emergenza. Picco di casi a San Pietro, scuole chiuse, luxotica, tamponi per il Green Pass a 6 euro in azienda. Ritorna l'incubo Covid nelle case di riposo, quattro operatori sanitari e cinque ospiti sono stati trovati positivi nell'RSA di Lamon. Immediatamente sono partite le misure di emergenza, sospese le visite dei parenti per personale e anziani, tempo tamponi molecolari ogni tre giorni fino allo spegnimento del focolaio. A San Pietro l'aumento della positività ha fatto chiudere le scuole fino a martedì. L'approfondimento di Dallanese lo troveremo a pagina 4. I dati in regione, balzo dei positivi, targato Belluno, ma gli ospedali reggono bene. La nostra è la provincia veneta che ha subito il maggior incremento del contagio da una settimana all'altra. Fine vita, il padre deciderà su Samantha, devo essere io a darle la pace. Il giudice ha nominato amministratore di sostegno Giorgio Dincai e confermato l'autorizzazione. Al fine vita, l'approfondimento di Aliprandi a pagina 24. Foto di copertina, omaggio al milite ignoto e un figlio di tutti noi. Un 4 novembre tra memoria del passato e sguardo al presente e al futuro. Per i militari del VII Reggimento Alpini, i carabinieri finanzieri dei comandi provinciali, è stata una giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate dal sapore particolare. Non solo sono stati celebrati 103 anni dalla vittoria e fine della Grande Guerra, ricorreva infatti anche il centenario della sepoltura del milite ignoto a cui la città di Belluno ha concesso la cittadinanza onoraria. La mattinata è stata fitta di cerimonia all'approfondimento di Ferigo. Lo troveremo a pagina 19. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Basso Feltrino, caduta fatale nel bosco, il fungaiolo trovato o morto. Il corpo senza vita di Angelo Gallina, avvistato su un sentiero da una squadra di boscaioli. Crisi in Valbelluna e del standard vertice Veneto per salvare il sito e lavoro. Verso le Olimpiadi, il Piemonte punta ai giochi, gli impianti non mancano. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre, incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Ecco quindi la prima pagina nazionale del Gazzettino. Nord-est è beffato, spariscono i soldi per la 4. ingorgo burocratico e cade l'emendamento che stanziava 440 milioni, di cui ne avevamo parlato proprio nell'edizione di ieri. Ma anche l'edizione di Oggi del Gazzettino, dedica spazio al picco di contagi in Veneto dovuti al Covid-19 e la seconda regione per numero di casi. Il presidente Zaia, usate la mascherina da Padova a Treviso, stretta sui cortei Novax. Foto di copertina, l'intervista a Marina Cicogna, film sulla sua vita da oggi nelle sale. Il mio cuore è a Venezia, ma non ci vivrei. Marina Cicogna, la contessa produttrice cinematografica. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno. Samantha, il giudice, ha autorizzato a staccare la spina all'approfondimento di Bonetti. A pagina 5 dell'inserto bellunese. E andentriamoci all'interno del Gazzettino. Pagina 2, la lotta alla pandemia, Covid, l'ondata europea, figliuolo. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, prepariamoci a vaccinare gli under-12. Il commissario spinge per la terza dose, campagna telefonica e niente prenotazioni. In Italia salgono i contagi, 5.924 ore allarme dell'OMS per i paesi del nord e dell'est. Sì, del Regno Unito, alla pillola che dimezza morti e ricoveri, ema prealluso d'emergenza. Il farmaco della Merck riduce i rischi per i pazienti senza immunizzazione, ma il vaccino resta l'arma più efficace. E a proposito di Covid, l'approfondimento in Veneto, un altro picco, usate la mascherina. Dati Gimbe, nelle sette province superata la soglia di 50 casi per 50.000 abitanti. Rilevati 734 contagi nelle ultime 24 ore, Zaia non voglio la zona gialla o rossa. Green Pass, sanitari precari, a nord-est le Ursle potranno stabilizzarne fino a 2.654. Compressivamente sono stati ingaggiati 6.400 addetti, ma vanno esclusi i medici non specialisti e pensionati. Le sette sulle proteste da Padova a Treviso stoppa le manifestazioni in Novax, dopo i focolai di Trieste seguiti ai cortei, i sindaci coronò ai ripari. Regole di vieti, mascherine obbligatorie, via dalle piazze e meno autorizzazioni. Ecco che cosa cambia. Politica nazionale, le tensioni nella Lega, Salvini tregua con Giorgetti ma si smarca da Draghi. Buono per la pandemia, il leader al Consiglio federale, mai nel PPE, sono subalterni alla sinistra. La critica al governo, noi vogliamo tagliare le tasse e difendere la famiglia. Queste le novità a proposito del governo Draghi, monopattini, nuove regole, patenti, merci con bonus, Boba Cortina a 24,5 milioni di distanziamento, quattro multe più care e soste rosa. Trasporti, rispunta all'identità di genere, il governo mette la fiducia sul testo. Politica in questo caso Veneta, l'intervista a Gian Antonio D'Are, non ci serve l'uomo solo al comando e su Europa i vaccini basta ambiguità. L'europarlamentare d'escapo della Lega, più collegialità, sia una segreteria politica, troppo scollati dal territorio, congressi, subito la gente vuole certezze. Noi dobbiamo dargliele. Troverete quindi questa intervista a Gian Antonio D'Are. Ma sempre dal Veneto a quattro cortocircuito burocratico spariti i soldi per la terza corsia, di cui se ne è parlato proprio nell'edizione di ieri sia del Corriere delle Alpi sia del Gazzettino, inammissibile l'emendamento trasversale che stanziava 440 milioni per il tratto Veneto, non ancora operativa la società erede di autovie. Non può avere risorse pubbliche. Il giudice toglie la doppia multa e salva i punti sulla patente. Una sentenza a dolo stabilisce che si può anche non sapere chi era la guida dell'auto. Ma continuiamo con le notizie di carattere nazionale e regionale. Siamo a Treviso, Fedez ci ha offeso, faccia al sindaco per un giorno. Il sindaco di Treviso Conte, presidente dell'Anci, ha colpito la dignità di una istituzione in un video musicale, un personaggio con fascia tricolore urina sul cantante. Non intendo intervenire sulla libertà di espressione dell'artista, ma tocca nel cuore chi svolge il ruolo con rispetto. Ed ecco appunto una delle immagini provocatorie contenute nel video musicale di Fedez. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno ed entriamoci immediatamente al suo interno con pagina 2. La prima notizia che troviamo riguarda la vaccinazione in provincia di Belluno. Nove vaccinati con tre dosi contagiati in casa di riposo. Lamon, positivi, asintomatici, cinque ospiti e quattro operatori. Siamo in apprensione ma stiamo combattendo. L'USL è forte incremento rispetto ai giorni scorsi. In questa fase è necessario tenere alta l'attenzione. Notizia quindi che riguarda sì la vaccinazione, ma anche i nuovi focolai che sono divampati in provincia di Belluno. La scorsa settimana ne abbiamo parlato. Un focolaio ha riguardato la scuola elementare di Castellavazzo, comune di Longarone. Adesso ci troviamo a Lamon con questo focolaio all'interno della casa di riposo. Il direttore Sommariva, riattivate tutte le misure in vigore a marzo 2020, bloccate le visite dei parenti, ciclo di tamponi per tutti ogni tre giorni. Un'altra notizia ci porta a San Pietro di Cadore. 25 persone con il Covid, ordinanza del sindaco scuole chiuse. Non intendiamo creare allarmismo, ma la situazione necessita di essere monitorata. Questa la dichiarazione del sindaco di San Pietro di Cadore. Altra notizia, siamo a pagina 3. I commercianti al sindaco stop manifestazione in città. Il presidente di Ascom in Opase si incontrano al Piave e poi si paghino le cure. Il sindaco del comune di Belluno, Massaro, se ci sono motivi di ordine pubblico, tocca alla questura intervenire. Io credo che alcune persone non ragionino, ormai i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Questa è la dichiarazione del presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni. E perché ci sta guardando da Facebook o YouTube alcuni scatti delle manifestazioni che si sono succedute nel capoluogo bellunese contro il Green Pass. Purtroppo, come si può vedere, nessuno, la maggior parte, non indossa la maschera, anche se di certo il distanziamento non è sicuramente rispettato. Ma a proposito di Green Pass, Luxottica, tamponi con lascia passare a 6 euro direttamente in azienda, si può prenotare attraverso il portale. Il servizio si aggiunge ai test molecolari ricorrenti. Cambiamo argomento, siamo a pagina 4 del Gazzettino di Belluno. Ladri scatenati in fuga con i ricordi del marito morto. Tra le abitazioni prese di mira tra Bios e via Mier, la cassaforte è stata tagliata con una sega circolare. C'è un allarme ma non era in funzione e cambiate le batterie proprio la mattina. In questo scatto si può vedere la cassaforte sventrata dai ladri in azione l'altra sera. Le scuole si presentano a sedi cotorna in forma. Altra notizia che troviamo in questa pagina del Gazzettino di Belluno. L'appuntamento è per il weekend. All'Istituto Edile saranno in vetrina i principali corsi della provincia. E ancora il Settimo Alpini celebra la ricorrenza del 4 di novembre. Siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno. Samantha e la vita sospesa. Il giudice autorizza a staccare la spina. Se i medici diranno sì. Arrivata ieri sera la decisione del Tribunale sul caso della trentenne Feltrina è stato vegetativo. Nominato tuttora il padre che ora dovrà chiedere il parere all'equip di dottori. Con vari testi ricostruite le volontà della ragazza non avrebbe voluto vivere così. L'avvocato Fente decisione che farà storia seguita a due pareri del Comitato Etico e un luminare. Il papà Giorgio d'Incari conosciuta la degnità della persona. Mia figlia sta soffrendo da 335 giorni e ha poche ore dalla decisione sul caso. Oggi convegno sul biotestamento edat nel Feltrino. Altra notizia che troviamo a pagina 8. alberghi a nuovo per le Olimpiadi. A Longarone Fiere l'incontro tra addetti ai lavori per pianificare gli interventi dei prossimi anni. De Cassane di Federalberchi dobbiamo stupire. Alverà di Cortina cambiare le nostre strategie. Presentata Expo Dolomiti Oreca 2022. Momento di incontro fra albergatori, ristoratori e aziende. Le piccole e medie imprese spesso faticano a fare uno scatto mentale. Di tutto questo si è parlato nell'edizione di Arredamont che si sta svolgendo in questi giorni a Longarone Fiere. Ma sempre a proposito di turismo, in città visitatori a livello pre-Covid. Ad agosto oltre 35.000 presenze. L'assessore De Miglia, il capoluogo, vede riconosciuto il suo ruolo di porta d'accesso alle Dolomiti. Feltre Sanità, chirurgia sempre più innovativa. Reparto diretto da Umberto Montin può contare su un nuovo ecografo intraoperatorio per interventi più mirati. La preghiatura del valore di 67.000 euro è stata donata da Maria Cassolle in memoria del marito Gaetano De Battisti. Il premario siamo tornati a pieno regime soprattutto per quanto riguarda la parte oncologica. La prima paziente a sottoporse all'operazione con lo strumento è stata una giovane medico bellunese. E sempre da Feltre, parcometri e tasse ridotte per favorire la ripresa. Adesso una tragedia che è avvenuta nel comune di Querovasse di cui si è parlato ieri. Ieri ci si augurava di trovare in vita appunto Angelo Gallina. Oggi invece purtroppo dobbiamo leggere la notizia della morte del fungaiolo sparito. Angelo Gallina, ottantenne trevigiano, era partito mercoledì per cercare funghi. Il cadavere scoperto ieri sopra Marziai, come accertato dalla polizia, è rimasto vittima di un incidente dopo essere scivolato e ruzzolato per 50 metri da una scarpata. È stato ritrovato purtroppo privo di vita alle prime luci dell'alba di ieri. Angelo Gallina, l'ottantenne del trevignano, è uscito martedì pomeriggio per andare a funghi senza però fare rientro a casa. Fatale è risultata una scivolata lungo la scarpata in una zona impervia sopra l'abitato di Marziai nel comune di Querovasse, una zona conosciuta dagli appassionati di funghi, tanto che a rinvenire il corpo di Gallina è stato proprio un fungaiolo che stava perlustrando la zona. ACC, ultimo giorno di lavoro, nessuna certezza. Siamo a pagina 11 del Gazzettino di Belluno. Ieri i lavoratori potrebbero aver varcato per l'ultima volta i cancelli dello stabilimento di Melle. L'Assemblea poi a casa. Sono in cassa integrazione e per ora non c'è una data di riapertura. Una volta bloccata la produzione sarà un problema farla ripartire. Stefano Buona della FIOM e i clienti continuano a chiederci pezzi, minacciano azioni penali per essere risarciti delle mancate forniture. ACC, quello di ieri potrebbe essere stato l'ultimo giorno in cui gli oltre 300 lavoratori dello stabilimento zumellese hanno varcato i cancelli dell'azienda di compressori. Dopo qualche giorno di lavoro gli operai sono tornati da oggi in cassa integrazione e non hanno una data di rientro nello stabilimento. E dalla ACC all'idea standard, oggi il tavolo in regione, l'ora della verità, giornata importante per l'idea standard e trichiana. La proprietà svellerà le proprie intenzioni al tavolo convocato in regione Veneto. Ponte nelle Alpi spaventa i passeggeri con il coltello. Treno bloccato, punta alpina nei guai. L'arma è stata sequestrata e la donna denunciata a diversi precedenti non è nuova a blocchi di traffico. Longarone, servizi culturali dello spettacolo. Il Dolomì allarga la sua offerta. Oggi la presentazione del nuovo corso all'Istituto di Longarone. Passiamo a Roccapietore. Livina a lungo, neve polemiche, tira i passo bloccati. L'Arabia del sindaco dei Bernardini, sindaco del comune di Roccapietore, per la mancanza di lavori nella parte trentina del Fedaia. 35 centimetri va in tilt. Ad Araba due tir di traverso mandano il traffico nel caos e anche il sindaco di Livina a lungo, Leandro Grones, si sfuga. Falcade Fonzaso, cade da sei metri al lavoro, elettricista gravissimo. Val di Zoldo, sentiero dei dinosauri, il comune, sistema l'intera area. Notizia adesso da Cortina. Mondiali, promossi da tre aziende su quattro. Ben 2.054 imprese coinvolte nella ricerca che sarà presentata lunedì. L'evento ha inciso sul 5,9% del loro fatturato. Sembra quindi raggiunto uno degli obiettivi di Cortina 2021, assicurare un lascito al territorio per impianti, alberghi e piste. Pieve di Cadore, già oltre 200 le donazioni raccolte per la famiglia di Mustafà. Manè, il giovane boscaiolo, purtroppo rimasto vittima in un incidente sul lavoro. Valle di Cadore, la cerimonia di Santa Barbara dedicata al pompiere Chiamulera, Chiamulera, l'estremo gesto di altruismo, lasciare tutto al comune. E adesso passiamo all'edizione delle Corriere delle Alpe ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 4 ed è un approfondimento come quello trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno riferito al focolaio che è scoppiato a Lamoni in casa di riposo. Il Covid rispunta in RSA, focolaio a Lamon, positivi quattro operatori e cinque anziani. Subito sospese le visite dei parenti, scattano le bolle per gli ospiti. Il direttore Sommariva, siamo in emergenza. Ma continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Pagina 15, crisi in Val Belluna, anche come giusto che sia il Corriere delle Alpe ed ed è Caspazio alla drammatica situazione che sta vivendo l'IDA Standard, ma principalmente i dipendenti dello stabilimento di Tricchiana, ex ceramica Dolomite, Vertice Veneto per salvare l'occupazione, sindacati, Assessore Donazzane e Azienda presenteranno richieste e soluzioni. La società smetta di fingere, altrimenti partirà la nostra controffensiva. Le parti sociali faranno pressione perché vengono ceduti la fabbrica e il marchio. Il caso, un territorio alle corde, l'appello del sindaco Cesa arriva a Papa Francesco. Il Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo, ha fatto per venire a Roma, tramite il Cardinale Stella, la lettera indirizzata a Mattarella e a Draghi che aveva scritto poche settimane fa il sindaco del comune di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, per lanciare un appello a favore e a supporto della difficoltà che sta vivendo la comunità di Borgo Valbelluna per la crisi sia dell'IDA Standard e sia della ACC. Pagina 17. Una donna battagliere vicina alla gente. Lotto. Il potere non tollerava Tina Merlino. In oggi il convegno al comunale, dedicato alla giornalista bellunese, a breve l'associazione pubblicherà un libro. Traverete quindi un'intervista ad Adriana Lotto, a firma di Marcella Corrà. Pagina 18. Il turismo bellunese guarda al futuro. Prodotti tipici e più innovazione. Parola d'ordine. Fare squadra a livello di territorio. Il cibo è un veicolo promozionale ancora poco sfruttato. I dati del capoluogo. Notizia che abbiamo già trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Bart polemico. Il marchio della DMO cancella la storia. Il nuovo marchio della DMO cancella secoli di storie e confonde i potenziali visitatori. Ne è certo il movimento Belluno Autonomia Regione. Quel bellunese è uno sminuire le nostre montagne. Le Dolomiti sono già un marchio conosciuto nel mondo e sono note come territorio senza confini. Le cerimonie del 4 novembre. L'omaggio al milite ignoto e un figlio di tutti noi, sindaco e prefetto, rendono onore alle forze armate e alla Caserma Sassa. Presenti i bambini delle scuole. Importante trasmettere loro questi valori. E passiamo a pagina 21. La 35esima ex tempore. Dal calore della famiglia alla voglia di ripartire. Ed ecco alcuni scatti delle opere che stanno prendendo vita. opere e ligne nel capoluogo bellunesi in occasione appunto della 35esima ex tempore. Avere cura è il tema scelto dal Consorzio Centro Storico per l'edizione 2021. Scolpire ha aiutato più e i più a dimenticare la pandemia, ma c'è anche chi ha perso il lavoro. Pagina 22 del Corriere delle Alpi. Malattierare un aiuto per 1.500 euro. Approvata la legge perché riconosce i diritti economici. Il deputato Dario Bond. Da oggi l'Italia è un paese un po' più civile. E troverete due interviste proprio riferite a questa novità riferita al sostegno economico per le malattie rare. Dalle grave felice un'attesa infinita. Ora lo sportello danni attivo per promuovere il movimento. Sarà necessario leggere il testo esatto. Giorgio Fornager scettico aspettiamo prima di esultare. Il fondatore dei Belumate è in prima linea. Ho devoluto tutti i proventi dei concerti. Pagina 23. Nuova razzia dei ladri a Mier. Svuotata anche una cassaforte. Notizia di cui abbiamo già trovato spazio nell'edizione del Gazzettino di Belluno. E un altro fatto di cronaca. L'odio piccante cade sul tavolo. Volano botte, ma anche le pizze. L'episodio ieri pomeriggio al centro commerciale Veneggia. Durante la colluttazione tra i quattro clienti è stato rotto il vetro del bancone. Pagina 24. Feltre e Samantha. La decisione nelle mani del padre. Il giudice tutelare ha nominato amministratore di sostegno Giorgio Dincà e ha confermato l'autorizzazione al fine vita. L'ho persa 11 mesi fa e non sarò mai più sereno, ma devo essere io a darle la pace e la libertà. Una intervista quindi al padre di Samantha che troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Il papà spiega la scelta di farsi carico della responsabilità estrema. Avrò tre figli per sempre. La morte di uno di loro è inaccettabile. Basso Feltrino trovato senza vita a Marziai. L'ottantenne è sparito da due giorni ed ecco un primo piano di Angelo Gallina. I soccoritori ieri mattina in piazza dopo il ritrovamento, purtroppo, del pensionato ritrovamento, ahimè, senza vita. Andiamo avanti con sempre notizie che riguardano il Feltrino. Fonzaso precipita al suolo grave un elettricista. Il 49enne di Falcade si trovava a un'altezza di circa 6 metri quando il cestello elevatore si è ribaltato. E sempre da Feltre, parcheggi, tavoli esterni, rifiuti, prolungati gli aiuti al commercio. Continuiamo con le notizie dalla provincia di Belluno. Siamo in Val di Zoldo. Aggregare gli anziani li aiutiamo a vincere l'ansia della solitudine. L'azienda speciale fornirà i professionisti multidisciplinari. Il Comune sosterrà il progetto stanziando 15.000 euro. Ponte nelle Alpi. Bocciodromo serve ultimare la copertura. La minoranza chiede anche di realizzare i bagni per disabili. Gli assessori Vielle e Pontello rifaremo il progetto 2010. Tambre, proloco, l'attività si è rimessa in moto. Ora la castagnata. Borgo Valbelluna ha rimboschimenti selettivi per riparare ai danni di Vaglia. Piantine da mettere a dimora nei punti che danno più garanzia di crescita solida. Il Comune approva il progetto di Andri che chiede alla regione 64.000 euro. Altre notizie dalla Valbelluna. Sedico, l'azienda speciale cerca un farmacista per Mas. Limana truffa a un sacerdote e si va al patteggiamento. Ponte nelle Alpi. Sabato inaugurazione. Zona dedicata ai bimbi nell'area di Pian Longhi. Notizie dalla Gordino. Riva Monte a normalità post via 2021 a segno da oltre un milione. Il sindaco Deone entro fine anno avrà il suo da fare per appaltare i vari lavori di sistemazione. Per la maggior parte interessate strade comunali e silvopastorali. Ancora dalla Gordino. PNRR. L'UMA, ovvero Unione Montana-Gordina, ci conta sistemare la strada regionale 203. Progetto prioritario. Se avremo i soldi. Promozione turistica. Cole Partner, la scelta di qualità di Arabba e Rocca. Dopo lo strappo con la DMO, i responsabili del nuovo gruppo nato dall'Unione tra impiantisti hanno deciso di affidarsi a un'azienda internazionale. Pagina 30 del Corriere delle Alpi. Cortina. Il Piemonte ora punta ai giochi. Abbiamo impianti efficienti. A Torino sono cambiati sindaco ed evento. Evento, scusate, offerta collaborazione alla macchina di Milano-Cortina. Gli ambientalisti locali insistono. Investire sulla pista da Bob è insensato e dannoso. CDM, rinnovati il logo e il sito. Il team operativo è invariato. La guida dello staff c'è Michele Di Gallo, supporto della Fisi per la comunicazione. Parliamo del nuovo logo della CDM, ovvero Coppa del Mondo. Ricalca quello dei mondiali con qualche leggero ritocco. Ritorna la campana a San Giovanni Battista. Più vicina alla riconsacrazione della chiesetta adiacente all'eremo dei Dolomiti è stato proprio il gestore Barbara Castaniera ad avviare il lungo e costoso itere. Ed ecco per chi si sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto della campana che da sabato 20 sarà ricollocata sulla chiesa adiacente all'eremo dei Dolomiti. Dalla rubrica Cultura e Società, pagina 32, la mostra, pubblicità, lattine, videogiochi e pesci d'aprile, Dante, l'icona pop. Al mare di Ravenna la ricostruzione attraverso i secoli di un volto e di un nome che sono diventati simboli. Il percorso si chiude con una ricognizione nel contemporaneo sui temi cari al poeta. Dalla rubrica Giorno e Notte, Neve, un monologo per vincere il dolore al teatro di Domegge. Domani sera la rassegna, tu chiamale se vuoi emozioni. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Giovanni Betto. Sport, calcio, Serie D, Onesco. Ogni sconfitta non deve essere un dramma. L'esperto centrocampista della Dolomiti Belonesi fa un appello all'ambiente. Manteniamo l'entusiasmo e cerchiamo di andare a vincere a Chioggia. Dagli applausi sotto rete a quelli per la tesi di laurea. A Fiabane sono onorata del premio al Politecnico. L'ex centrale della Palavolo Belluno, ora ingegnere energetico. Ho dovuto smettere di giocare e sono spesso in Germania per lavoro. Ancora sport, calcio a 5, Serie B, la canottiera Pordenone contro una sua bestia nera. Corsa in montagna la Lavaredo Ultra Trail nella UTMB World Series. Brogioni al settimo cielo, bel riconoscimento. E adesso Locke, il cortinaffro, crolla sul campo del Salisburgo. 10 a 3 il risultato finale, 10 reti della squadra austriaca. Basket C, Silver, domenica alle 18 alla Luzzo. Siamo a Feltre. Il Feltre a JNV sogna il colpo col Conegliano. Dopo un ottimo avvio, sono arrivate due sconfitte. Mattiello, stiamo pagando un caro prezzo le assenze. Basket inizia la prima divisione. Feltre, la squadra B, è tutta di under 19. Alla guida il coach Luca Durighello. Rugby, Autumn Test Series. L'Italia riparte dagli All Blacks. Crowley chiama gli emigrati. Domani alle 14 si gioca l'Olimpico ad otto mesi dall'ultimo match. Per gli azzurri tornano Fuser e Minozzi, la Nuova Zelanda, con sei titolari e Capitan Cane dall'inizio. E terminiamo questa edizione di Edicola Belluno con la lettura delle previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa su tutta la regione. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel mondo.